Partito il Rita Calcestruzzi edizione 2013 Primi metri di gara dall'interno, terra bruciata all'esterno Recco Iberica, quindi Mister Chagrin, Arbor e Miss Benedetta All'attacco della prima piegata, Recco Iberica in avvantaggio Ha qualche incertezza in curva, la compagna di colori che prova a lentare l'interno Ora si chiude il barco e rimane in testa Recco Iberica In seconda posizione si mantiene, terra bruciata per via esterna e galoppa Il favorito di Mister Chagrin, marcato da vicino da Green Arbor A chiudere Miss Benedetta Quando si va ad attaccare il giro conclusivo, in vantaggio è sempre Recco Iberica Che ha sempre un problema in curva, in seconda posizione si mantiene Mister Chagrin Per via esterna e galoppa, terra bruciata, quindi Green Arbor Quando è 600 meri conclusivi, in vantaggio è sempre Recco Iberica In seconda posizione si mantiene Mister Chagrin, ora va all'esterno del battistrada Mister Chagrin che scara l'attacco, passa Mister Chagrin Nei confronti di Green Arbor che la marca ancora da vicino, quindi terra bruciata Sull'ultima curva, il match è stretto tra questi due con Mister Chagrin che sta scappando, Green Arbor che cerca una ricorsa Quindi Recco Iberica e terra bruciata Quando Mister Chagrin è in piena spinta nei confronti di Green Arbor che cerca un aggancio Quindi terra bruciata, c'è rocca lungo la corda, roveggio di Giacinto insieme a Mister Chagrin All'esterno c'è la punta di Green Arbor, Mister Chagrin la corda all'esterno Green Arbor di due la percalotta, gli ultimi 100 meri in gara Mister Chagrin vantaggio all'esterno Green Arbor Mister Chagrin non si prende nei confronti di Green Arbor E per la terza dovrebbe essere il numero tre di Miss Benedetta Signori, Mister Chagrin su questo tracciato dimostrare di andare veramente troppo forte Green Arbor ci ha provato ma deve accontentarsi del secondo posto Perché Mister Chagrin è un cavallo molto qualitativo Rivediamo, c'è la messa a braccia a frusta Roberto Giacinto per portare al palo Mister Chagrin all'esterno di strada al spunto di Green Arbor Ma Mister Chagrin mantiene una lunghezza nei confronti di Green Arbor E vince Mister Chagrin per la seconda Green Arbor, per la terza il numero tre Che finisce molto bene Miss Benedetta Buona per la prossima Vince Mister Chagrin questo Rita Calci e Struzzi Edizione 2013, primo piano se lo merita tutto Mister Chagrin e Roberto Giacinto La quota al totalizzatore nazionale è 1,63 1,63 Il training del signore Perguido Meniconi I colori del signore Paolo Facitelli